mercoledì 24 marzo portotoli si è inaugurato il centro anziani san nicolò con la presenza di autorità civile religiose sua eccellenza il prefetto dottoressa maddalena de luca il vescovo di chioggia monsignor adriano tessarollo l'assessore al territorio cultura e sicurezza della regione veneto cristiano corazzari l'ex presidente della conferenza dei sindaci franco vitale e il nuovo presidente il sindaco di lusia luca prendo a fare da padrona di casa il vice sindaco silvana mantovani che ha descritto sia le peculiarità sia l'impegno del comune impegno già iniziato con le passate amministrazioni finotti e bellan un bel gesto di galateo istituzionale è stato da parte del vice sindaco mantovani dare la parola all'ex sindaco claudio bellan è una residenza che propone agli ospiti cure mediche sostegno nelle attività di tutti i giorni risposte ai bisogni della vita quotidiana e relazioni grazie al personale dedicato qualificato e multidisciplinare sono presenti stanze singole doppie con bagno privato un'infermieria ampie aree condivise per il pranzo e le attività ricreative e di socializzazione il centro servizi anziani san nicolò si trova in via novembre 66 numero 4 a portotolle le cooperative sociali partner del consorzio polisi in assistenza socio sanitaria sono cidas eureca cooperativa sociale oasi e goccia 48 posti sei in regime di solvenza oppure a disposizione dei privati che vorranno portare i loro cari in struttura e 42 in accreditamento con il servizio sanitario nazionale chiudiamo con le parole del sindaco roberto pizzoli etico non è oggi non è aggiornata né delle medaglie né di essere bravi né oggi è la giornata che ogni amministratore come mi hanno insegnato quando mi sono approcciato alla politica che non è assolutamente il male assoluto del mondo ma è un servizio da cercare di fare il bene per il prossimo è quello di migliorare la qualità della vita della propria popolazione noi abbiamo una mission e la mission è migliorare la qualità della vita di ogni nostro singolo cittadino quest'opera qua è la costruzione è il disegno di quella che è la nostra mission mission che oggi per quanto riguarda la casa di riposo ma abbiamo visto il polio scolastico tutto ciò che nelle amministrazioni che si sono succedute abbiamo voluto fortemente che portasse il suo saluto anche l'ex sindaco perché giustamente si è adoperato su questa strada che stiamo percorrendo anche noi e di conseguenza oggi ripeto per noi è orgoglio è onore ma soprattutto è la definizione di quello che è il servizio che dobbiamo fare ed è il modello di servizio che ogni amministrazione deve fare per la propria cittadinanza questo lo dico perché è giusto ed è giusto sottolinearlo